Grazie, buongiorno a tutti. Possiamo già andare sulle slide? Avevo una presentazione circa da 200 slide, l'ho ridotta notevolmente, però le informazioni che vorrei darvi sono veramente tante, quindi vorrei iniziare subito e partire velocemente. Ok, quello su cui vorrei focalizzarmi in questo intervento è andare ad analizzare un progetto di e-commerce e nel contempo far spiegarvi quelle che sono le metodologie che utilizziamo per far modo che questo e-commerce diventi efficace. Ok, abbiamo preso come caso, come esempio, quello di ufficio.com, perché l'abbiamo scelto? Perché vende un prodotto comune, un e-commerce di prodotti e forniture per l'ufficio, quindi dalla matita al post-it fino alla scrivania. e di conseguenza è un prodotto molto comune e quindi la difficoltà di far sì che avvenga la vendita è ancora più difficile. Poi è un e-commerce di grandi dimensioni, quindi l'aspetto dell'indicizzazione è ancora più importante. Fate conto che più grande è l'e-commerce, più tempo ci vuole e più energie ci vogliono per fare in modo che questa nave navighi in modo corretto all'interno dei motori di ricerca. L'altro aspetto è quello che questo sito ha vinto quest'anno, un premio importante, quello del Mediastar 2012, come miglior sito di e-commerce e ha avuto anche una menzione come migliore usabilità. L'usabilità è un altro aspetto fondamentale che andremo a toccare in questa presentazione. E la cosa più importante è che l'abbiamo fatto noi, quindi giochiamo in casa in modo un po' orgoglioso, insomma andiamo ad illustrarvelo. Abbiamo pensato di mettersi nei panni della persona che poteva venire qua per capire in che modo fare un e-commerce. Quindi sicuramente uno dei pensieri che ha avuto è quello di dire voglio un e-commerce, voglio un sito, voglio vendere online. Crediamo che prima bisogna passare da un'altra domanda, che è quella del che tipo di cliente sono. Per farvelo capire, tempo fa ho trovato un modo veramente simpatico con cui un webmaster, un freelance, ha descritto questa, diciamo, cosa, questa divisione, questa ambiguità. Ve lo faccio vedere, sono due filmati brevissimi, ma che vi fanno capire quant'è importante da parte del cliente entrare già, prima, all'inizio, nell'ordine di idee giuste, nella mentalità giusta. L'audio c'è? Vado. Manuel vuole fare un sito web e si presenta da me con un project brief, quindi un documento che identifica nello specifico quali sono i problemi che il suo sito web vuole andare a risolvere e quali sono le necessità che lui ha. Poi si presenta con testi e fotografie, quindi già elementi che saranno inseriti all'interno del sito web. Mi fa un elenco di quelli che sono gli elementi cuore, chiave, di valore del suo sito web in modo che io possa centrarli e sapere come fare a metterli in risalto. E infine mi dà anche la nicchia, ossia le persone, il target a cui è rivolto quel sito, belle scritte su un pezzo di carta. Che meraviglia! Ho tutti gli strumenti per fare un design costruito intorno alla nicchia specifica di Manuel. Questa è la versione ottimale, però a questo giovane freelance è capitato anche un'altra tipologia di cliente, che è questo. Mario è un tioraio e vuole fare il sito internet. Allora si presenta da me dicendo voglio un sito semplice, no? Tipo il sito della Apple, però un design che impatta e che mi faccia guadagnare tanti soldi, eh? E allora gli chiedo se mi ha portato i contenuti per il sito e quello mi fa No, ho portato niente io, però tanto tu fai due disegni, poi io ti dico se va bene, vedremo, no? Ah, e mettici dentro Facebook. Perché? 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 Sai come va a finire? Che io lavoro 40 ore, faccio 12.000 modifiche e Mario non ha alba di quello che vuole all'interno del suo sito web. Ok, è molto divertente, potete trovarlo facilmente su YouTube. Ok, quali sono gli stadi di sviluppo che ci stanno dietro a un progetto di e-commerce? Essenzialmente è quello che già il ragazzo prima vi ha detto nel video, cioè quello di andare ad analizzare molto bene e eventualmente aiutare il cliente a raccogliere le informazioni, quindi raccogliere quelle che sono i desiderata del cliente, i target, insomma, quello che vi ho già spiegato nel video. Fondamentale in un sito di e-commerce importante, molto ricco di prodotti, è quello della definizione dell'architettura. Cioè l'architettura è l'aspetto fondamentale, l'architettura proprio del sito web, di come funzioneranno le pagine e andremo a vederlo in modo nel dettaglio. E poi chiaramente le caratteristiche che deve avere, che cosa deve trasmettere. Si passa poi a una fase in cui viene definito il wireframe del sito, vedremo tra poco che cosa significa. È un po' la struttura della pagina, non siamo ancora arrivati alla grafica. Dopodiché si passa allo sviluppo e alla personalizzazione del software, cioè quello che poi farà funzionare l'e-commerce e alla fine allo sviluppo di quello che è il layout e l'interfaccia del sito. Per interfaccia del sito significa non solo web, ma anche mobile, applicazione per le app mobile, eccetera. Un esempio, questo è il primo file Excel in assoluto che abbiamo creato quando abbiamo pensato a ufficio.com. Da dove siamo partiti? Dalle categorie. Quindi siamo andati a definire quali erano le categorie e che elementi in termini già di contenuto e di descrizione associare a queste categorie. Lavorando su elementi importanti, che poi sicuramente Marco vi illustrerà molto meglio, come il title, quindi il titolo della pagina, come l'header H1, che è un elemento molto importante oggi per i motori di ricerca, le parole chiavi e le descrizioni. Questo è solo un esempio. Questo è un esempio di struttura, cioè come il risultato dell'analisi che è stata fatta, dell'architettura. Questa è una struttura a stella per un lavoro che stiamo facendo, questa è un'altra struttura con una logica più verticale, questa è un po' più la classica, quindi una struttura orizzontale in cui si vede un po' meglio la logica che sta dietro all'alberatura, che poi andremo a vedere nel dettaglio di un sito web di e-commerce. Questo è il famoso Y-frame di cui vi parlavo, quindi è andare in modo molto abbozzato a definire le aree. Queste aree sono le aree importanti che faranno il successo e meno del vostro e-commerce. Dall'individuazione di queste aree può nascere la conversione, cioè la vendita. Ci sono vari modi per rappresentarla. Questo è uno, questo è un altro in cui al cliente anche viene spiegato come funzionerà, a parte del funzionamento chiaramente del sito. Questo è un altro esempio, questo esempio fa di più, va anche ad analizzare, a cercare di far capire la logica dietro la quale poi ci sarà la navigazione proprio del sito, cioè il portare l'utente da una visione più complessiva a una visione più nel dettaglio. Ci sono dei software che fanno anche questo, quello che usiamo noi maggiormente è questo, si chiama Pidoco. Sono dei tedeschi molto in gamba, è un software che è completamente online e che addirittura vi permette di realizzare il sito nella sua interezza. È navigabile e quindi si possono fare ottimi test e verifiche anche dell'architettura e della navigazione e anche dell'usabilità. Ok, il wireframe di ufficio.com è molto semplice, la semplicità è la parola chiave per quasi tutti i nostri lavori. Quindi vedete che c'è un logo che ormai è comune sia in alto a sinistra, poi un'area che è legata ai dati dell'utente, un menu principale, un menu secondario che vedete in alto a destra, poi tutta un'area promo in cui verranno promossi dei prodotti, e un'area fondamentale per un sito come quello che abbiamo realizzato, che è l'area in assoluto di uno dei prodotti che si vende di più, che in questo caso sono le cartucce, e poi tutta un'altra serie di aree. Il risultato di questo è questa, quindi questa è la grafica di ciò che vedete online in questo momento, e questa diciamo così è l'home page. Sappiate che però in un sito di e-commerce, ma in generale in un sito, non è come in un negozio normale che entro dalla porta, e quindi teoricamente dall'home page, ma la maggior parte delle ingressi all'interno del nostro sito arrivano dalle finestre, voglio dire, dalle vetrine, e quindi non è l'unica interfaccia da studiare. Si ragiona con una, diciamo, un'alberatura classica, quindi c'è classica che si trova normalmente nel sviluppo software, dei database, o comunque nell'architettura delle informazioni, in cui c'è una radice, ci sono dei nodi, dei sottonodi, e poi ci sono le foglie. Le foglie sono l'elemento fondamentale. Le foglie è la pagina descrittiva del vostro prodotto. È l'elemento in assoluto più importante del vostro sito. È lì che avviene l'inserimento dentro nel carrello. Quindi è un elemento fondamentale per la conversione. Vediamo nel dettaglio velocemente ufficio.com. Ok, questo è l'home page, ve l'ho già detta. Vi ho già anticipato anche questo, c'è un negozio tradizionale che entra dalla porta. E in questa logica posso anche costruirgli un percorso, ok? Un percorso che possa poi arrivare a una vendita. In un e-commerce non è così. Quindi, addirittura, se non stiamo attenti, l'utente può arrivare all'interno dell'e-commerce da pagine dalle quali non vogliamo che entri. Una su tutte, il carrello. Ok? Bloccare assolutamente il carrello all'indicizzazione dei motori di ricerca. Perché è un luogo non adatto all'ingresso del nostro utente. Ecco, questo è un nodo, quindi è una categoria, una sottocategoria. Fate conto che il prodotto deve avere il proprio spazio. E l'area deve essere ampia intorno a quel prodotto. In modo tale che possa essere cliccato, che deve avere spazio. Spazio di emergere. E poi passiamo... Ah sì, c'è un elemento che subito vi raccomando e su cui volevo focalizzare, che è la parte delle briciole di piane, vengono chiamate. Si trovano comunemente, ma in un sito di e-commerce diventano molto molto importanti. E fondamentali anche per una corretta indicizzazione. Tenete conto che nella logica di fare un'architettura di e-commerce, la cosa che assolutamente non si deve fare è quella della duplicazione di pagine con lo stesso contenuto. Questo perché vai, si fa, di foglie con lo stesso contenuto soprattutto, quindi di prodotti, di pagine web che hanno all'interno la descrizione, il dettaglio del prodotto, che sono uguali, ma alle quali arrivo da due alberature diverse, da due percorsi diversi. Ecco, questa è una cosa assolutamente da evitare per i motori di ricerca, perché vado a, come dire, dividere quello che è il ranking di quella pagina, vado a disperdere gli sforzi che sto facendo per indicizzare quella pagina. Un elemento importante su cui lavoriamo tantissimo è quello che non succeda a questa cosa. E questo è l'altro elemento fondamentale. Nel sito di e-commerce deve essere il più possibile per noi, il più possibile neutro. È il prodotto che deve emergere, fare la differenza. E in un secondo momento anche il brand a seconda dell'e-commerce. Bene, arriviamo alla foglia quindi. Questa è una pagina di descrizione di un prodotto e vi ho già detto quanto è importante che il prodotto emerga. Una volta che è emerso il prodotto, quali sono le caratteristiche che comunque questa pagina deve avere per avere un buon riscontro? Queste. Deve essere il contenuto, l'interfaccia deve essere semplice e intuitiva, deve essere trasparente e chiara in tutti i suoi dettagli, deve trasmettere fiducia, questo è l'elemento fondamentale, deve essere bello e una volta un nostro cliente a questo punto ci ha detto se mi metti qua che costa anche poco hai descritto perfettamente qual è la mia donna ideale. Vabbè, dietro la battuta c'è però una cosa vera che è quella che vi dicevo prima. Il sito di e-commerce non deve essere vestito intorno all'impresa o all'imprenditore ma deve essere rivolto a chi? essenzialmente a due entità fondamentali e importantissime quasi sullo stesso piano. Uno è l'utente internet, cioè quello che è in mano la carta di credito e che vuole comprare il vostro prodotto, l'altro è il motore di ricerca, chi ha in mano il traffico e che permette al vostro sito di essere trovato. Ok, se questo è ciò che il mio utente internet vede, la semplicità credo che sia abbastanza evidente. È molto importante, appunto come vi dicevo prima, la possibilità di in modo intuitivo arrivare subito a ciò che cerco. Noi abbiamo pensato a quello che vi dicevo prima, quindi alle briciole di pane e a fare in modo che il menu principale possa sempre riportarvi a quelle che sono le categorie principali in modo tale da poter velocemente azzerare e ripartire nella ricerca. Gli altri elementi sono quelli che vi dicevo prima, trasparenza e chiarezza, quindi mettere in chiaro i prezzi comprensivi di IVA, di non IVA, lo sconto e quant'altro, non trascurare nessuno di questi aspetti. Le disponibilità, è fondamentale che il sito sia costantemente aggiornato con le disponibilità, evitate di raccogliere ordini con l'indicazione che c'è la disponibilità e poi magari in secondo luogo mandare un'email al cliente e dire ah guarda non ho più la disponibilità. Questo è un elemento importante che non trasmette fiducia. Potrete aver fatto una vendita ma compromettete la relazione con quel utente per le prossime vendite. Gli elementi di offerta sono gli unici elementi che devono un po' emergere rispetto al resto del sito. Quindi noi li gestiamo sempre con un qualche elemento che li caratterizzi e le faccia emergere. In questo caso è anche solo il colore che è completamente fuori gradazione rispetto al sito. E poi le descrizioni univoche. Sicuramente chi verrà dopo di me ve lo dirà. Oggi più che mai non si può fare il copia e incolla di contenuto. La descrizione deve essere la parte fondamentale che rappresenta il mio prodotto e lo deve rappresentare con un contenuto che sia il più possibile univoco. scritto apposta per quel sito, per quella pagina.